Perchè esitare? Spariamo questa spia rossa! Ok, andiamo alla vettura blindata. Ecco il piano, Pavel. Tu lo porti... Dovresti entrare nella torretta. Sarà più difficile vederti. Spero che tu sappia come funziona una mitragliatrice. Beh, ragazzi, buona fortuna a voi. Cercheremo di superare i posti di blocco senza fare rumore. Se mantenete la calma potrebbero sorvolare sul fatto che siamo i sostituti dell'equipaggio. Se va tutto a rotoli, fate quello che vi dico. Grazie. Grazie. Che state facendo qui? Questo veicolo non è previsto nel piano trasporti. Ecco, siamo stati inviati al posto di blocco avanzato, signore, per consegnare munizioni. Hanno già ricevuto le munizioni. Chi siete? Alzate la visiera! Allarme! Ai veicoli! Allarme! Andate la visiera! Grazie! Nemico a sinistra! Artyom! Elimina lo stracolo davanti a noi! Nemico davanti a noi! Nemico alle spalle! Oddio! È un Panzer! Oddio! È un Panzer! Nemico davanti a noi! Nemico davanti a noi! Nemico davanti a noi! Nemico davanti a noi! Nemico a sinistra! Nemico a sinistra! Dietro di noi, Artyom! Dietro di noi, Artyom! Noi! Adio! Sì, ma in gioco poch! Mi ha letto scopo il braccio! Grazie a tutti. Grazie a tutti.